La presentazione di oggi è stata una presentazione generale, fermo restando che il testo che abbiamo illustrato è un testo che è suscettibile anche di eventuali ritocchi perfezionamenti, l'ossatura, il corpus è quello lì, però come è stato già ribadito da tante parti è possibile attuare un'indagine, un'analisi, una valutazione successiva per fare eventuali affinamenti. Sul testo come vedete è molto articolato, riguarda aspetti dei maniali, aspetti del lavoro, aspetti delle figure professionali, molti e moltissimi aspetti che toccano la semplificazione delle procedure amministrative, la creazione dell'istruttore di vela, del mediatore del diporto, c'è tutto l'impianto sanzionatorio nuovo e quindi come dicevo è bello corposo e cospicuo. Quindi vi rimando comunque a una lettura dei parecchi articoli e poi naturalmente ciascuno potrà fare le proprie osservazioni.